Master Banzicalupi del Multedo, un commento su questa partita? Una partita difficile, che veramente temevo, perché è un campo particolare, poi loro sono comunque la prima squadra ostrica, già conoscevo. Ero proprio, guarda, sono veramente contento, ma non poteva andare che così, cioè noi dalla nostra abbiamo Marco Strabiglia, abbiamo fatto la cena con Marco Strabiglia, lui fa le magie, poi è questa la nostra forza, la musica, stare insieme, essere sempre gioiosi, questa è veramente la nostra forza. 16 punti alla salvezza, ci siamo quasi. Marone e Luca non capiscono il cazzo. Luca, lo sapete come la penso, ha sempre ragione Marone, tranne quando vuole prendere il set, deve darci di piatto. Comunque è una grande partita, abbiamo dimostrato di essere una squadra con una squadra. Buona salata. Ciao, grazie Alex. E' quello qua il mago, Marco Strabiglia. Ehi! Questo è un po' di spazio. Sì!